Quindi immediatamente si può fare, per appello nominare, rendere immediatamente eseguibile la elezione. Ci vediamo, vi lascio, viaggio, Aspente, Corastiero, Giannarella, Nessuti, Armentano, Perlomagno, Erelli, Damboglia, Zaccagnino, Porte, Cosentino, Labarra, con guiderci favorevoli la delibera è veramente eseguibile. Prego, Presidente. Credo dovremmo completare con il Vice Presidente e dopo di che... Cioè, andiamo all'ufficio di Presidente. Sì, si costruisce la presenza e così diamo i tempi da votare. Allora, stesse modalità, scuritatori. Stesse modalità, gli stessi scuritatori. Grazie. Andiamo a la parte. Sì, innanzitutto faccio il memoria al nuovo Presidente del Consiglio di Galleria. Bandagino, che è un buon lavoro. Vediamo che... Vedrai, vuole in maniera profonda, questo non ti devo una. E per quanto riguarda invece la carica d'artice del Presidente, come minoranza, propongo Zaccagnino Donato, dell'Italia, che è in Italia, laurea libera. Grazie. 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 Grazie.